Ragazzi, prima che arriva la Fefe, vi devo dire una cosa importantissima Dovete andare su www.vinistrike.com e prenotare i nuovi album in studio degli Smile di Tom York e di Warren Haines, lo strepitoso chitarrista rock blues e li abbiamo messi già online poi vi dico una cosa che non lo sa nessuno domani, oltre a tutte le novità che arriveranno, che sono clamorose stasera, vi rifiufferemo il video ci arriverà limitato, abbiamo dato uno stock limitato, mi raccomando, non lo dirà nessuno The Blues Brothers, edizione limitata sul Rhino Records addirittura vinire blu, andare le corsa Quelli di trovare domani in negozio, per cui se vi interessa scrivervi su questo video contattateci tutto quanto, oh sono emozionato, sono emozionato taglie, allora ricapitolando, nuovo album in studio di Smile, nuovo album in studio di Warren Haines c'è anche l'EP nuovo di Motley Group con la cover dei Beastie Boys, Fight for your right potete pensare un po', e domani in negozio arriverà la limited edition della colonna sonora originale dei Blues Brothers su Rhino Records, vinire blu, taglie, taglie, mo' torna su con la comando e ringhiata fevere, oh mi raccomando con la comando